Ma cosa stai pensando? Che va tutto una grande! Ehi, perché hai interrotto? Vincevo io! Ah, non hai detto! Twilight, ti sta venendo il controintantesimo? Eh? Oh, certo, certo! Grazie per il tuo quaderno, Fluttershy! Bella la canzone che hai scritto per le Rainbow! Grazie! E forse un giorno riusciremo anche a suonarla! Tommy! Bruni! Twilight, credo di parlare a nome di tutti dicendo che se tu non fossi tornata ad aiutarci saremmo davvero nei guai! Ah! È arrivata la pizza!